Un uomo curioso, osservatore e divulgatore, si aggiunge anche la figura dell'uomo d'azione, devolto al servizio di Stato. Plinio, infatti, era ufficiale di cavalleria, alto magistrato imperiale e ammirario coraggioso, e noto che nel 79 d.C. perse la vita mentre studiava gli eventi naturali del Vesuvio. La sua morte non fu solo quella di un ricercatore curioso, ma anche quella di un eroe che soccorse le persone colpite dall'improvvisa eruzione, anticipando in questo modo il ruolo della moderna protezione civile. Il suo gesto eroico, il sacrificio estremo per salvare altri uomini, sembra trovare motivazione in una sua citazione Deus es mortali, iuvare mortale, et eternam gloriam vita. Aiutare un mortale è divino per un mortale.